Franco Genzale presenta la siringa di Mila Martinetti Dobbiamo essere seri e riconoscerlo all'unanimità. Il consigliere regionale irpino Maurizio Petracca è uno che lavora sodo, nonostante sia dell'Udc. Presidente della Commissione Agricoltura, in questa fase si sta molto impegnando per il riconoscimento del Consorzio di tutela dei vini irpini, impresa decisamente difficile. Al riguardo, proprio ieri, ha ripetuto che bisogna guardare più al bicchiere mezzo pieno che a quello mezzo vuoto. Ha ragione, anche se a volte, quando parla, sembra abbia da poco svuotato anche il bicchiere mezzo pieno. Grazie a tutti.